L'Engambiente Abruzzo presenta oggi questo progetto nazionale Clean Cities che riguarda 14 città nel nostro paese, fra queste anche la città di Pescara. Abbiamo individuato questi 14 cavolooghi, tra cui anche Pescara, puntando sulle città che effettivamente possono essere realisticamente veicolo e motore della transizione ecologica all'interno del nostro paese. Pescara, come quasi tutte le città italiane, rileva delle criticità legate all'alto numero di auto circolanti all'interno della città. Ma, d'altro canto, presenta anche degli ottimi spunti, per i quali speriamo una notevole accelerazione, per migliorare e portare verso la sostenibilità la mobilità cittadina. Vediamo l'implementazione sulle piste ciclabili, sulle strade a velocità 20-30, la sharing mobility che è stata portata in città e che punta a essere implementata prossimamente. Quindi si tratta di mettere a sistema gli interventi, puntando sul ridisegno complessivo dello spazio urbano che possa garantire ai cittadini sicurezza, salute e vivibilità. Importante in questo progetto la collaborazione dei cittadini ma anche delle amministrazioni locali. Noi proprio per questo presentiamo queste pagelle con le amministrazioni, perché da un lato si vuole fare un quadro della situazione e promuovere quella che è la nostra iniziativa e la nostra proposta e dall'altro spingere con una forte interlocuzione proprio le politiche locali a prendere le scelte che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di sostenibilità al 2030. Le criticità sono anche di stimolo e ci sono sempre, perché tutte le città e i grandi centri urbani come Pescara possono essere contrassegnati da problemi di natura ambientale, di qualità dell'aria. Su questo però stiamo lavorando molto, tra l'altro stiamo lavorando proprio con Lega Ambiente con una positiva collaborazione che ci consentirà da qui a qualche mese anche di avere su Pescara una seconda ciclostazione proprio nella stazione centrale di Pescara. E perché è importante la ciclostazione? Perché la ciclostazione è uno degli elementi che andrà a comporre quel mosaico complesso che è la mobilità sostenibile. La qualità dell'aria, una buona qualità dell'aria può essere garantita ai cittadini proprio attraverso un sistema che consenta, attraverso infrastrutture, attraverso un'offerta che l'amministrazione è chiamata a dare ai cittadini stessi, di evitare l'uso degli autoveicoli a combustibile fossile. E quindi biciclette, quindi monopattini e quindi scooter sharing, intermodalità, l'uso del treno e quindi la possibilità, ecco, grazie a Lega Ambiente e RFI anche di trovare una ciclostazione in cui lasciare la propria bicicletta o trovare delle biciclette a noleggio e muoversi in città, una città pianeggiante che comunque dà la possibilità ai cittadini di utilizzare questo strumento, di muoversi senza inquinare l'aria. Questa è la grande sfida che noi dobbiamo lanciare soprattutto a beneficio delle prossime generazioni.